In questa puntata... Mi prendi un fa... Sì! Una doma! Buono, 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 buono! Per saperci! Porca Raia! Sì! Porca... Bene! No, non va bene, non va bene perché sì sono amichevoli ma comunque c'è dell'astio. Sai che le linguine all'astio sono buonissime? Mi è capitato il buon Toffo, il piccolo Toffo. Oh no! Quando era cucciolo e quindi potenzialmente letale. Oh no! Perché è il gufo? No, è il gatto. Vabbè non c'è problema. Allora siamo qui in una partita di quelle... Che mappa di merda! Che mappa di merda! È una mappa molto, molto imbarazzante. Molto imbarazzante. Potrei risalire la collina ma... Noi anche oggi ringraziamo gli autori di questa mod. È bellissima. Sì che... In realtà no. Vorremmo un'altra versione. Però... C'ho provato, ma no che tiro di merda. Bravo, sei stato veramente bravo. Bravo, 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 bravo. Però è un tiro di merda. Molto brutto. Ma perché fa proprio schifo sta mappa. Cioè nel senso è proprio inconcludente. Non si capisce un cazzo. Eh, rimbalzi... Rimbalzano sempre da quel lato. Ma com'è su fatto? Figlio di puttana si è spostato. Allora, allora... È un po' di sasso. Che fa il centralino? Ah, il flipper. Eh, questo è inutile il flipper qua. Proprio inutilicissimo. Eh. Che poi... Che punti brutti stiamo facendo? Mamma mia che brutta partita. Ma fa schifo proprio la... Ragazzi stiamo portando una... Che cazzo siete qui a guardarla fare? Beh, questa è una partita sottotono. Chiaramente. Posso dire che... Questa è sottotono. Ma quella di... Di Patreon. No, vabbè. Perché sennò poi io so che caccio la guerra. Ma... Mi posso assicurare che lì sono successe cose. Sì, sì. È stata una bella partita. Beh, però anche loro si sono beccati... Eh, vabbè. Loro si sono beccati decenni. Un decennio. No, no. Ma si sono beccati... Mi prendi un fa... E' un culo! Si sono beccati della partita di prima che era molto tecnica. Era tecnica. Mi chiami tecnica. C'erano dei tiri molto tecnici. Quei tiri che... Uuuuh! Molto il cazzo. Sto raggranellando qualche punto. Sì, ma non mi sbattere sulla scrivania. Disse la segretaria. Oh, non mi sono ricordato! Non mi sono ricordato! Sì! Ha fatto meno 25, ragazzi. Doppio meno 25. Eh... Ragazzi... Ah, finalmente un potere utile. Fanguffio. Vabbè, ma che cazzo... Ma che devo fare? Beh... Ormai tiro a caso. Che devo fare? Questo è proprio a caso. Quello che succede, succede. A caso. E niente. Non c'è niente. Allora, tirare a caso in un certesì... Madonna, veramente. In certe situazioni ancora. Bisogna veramente tirare a caso, però, qua. Naggia Cristina! Niente, continuo a fare punti a caso, questo. Ghiiii! Non ho detto niente! Giuseppe volevo dire! Però hai detto... Giuseppe volevo dire! Si, 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 si. Qui poteva essere... Porca... Oh, la... Suf! Il titolo di merda! 5.064 mila! Ma quando mai? Ma quando mai? Ma quando mai? Madonna Dio! Madonna! Che so, puoi scherfare? Granata! Questo... Si, era... Mi sa, il dono dell'alieno. Incredibile. No. Per favore scendi a destra! Vaffanculo! Ah, fatto un disastro, però. Si, ma la faceva un disastro. Altro che... La devi mettere in ginocchio e riflettere sulla vita e sul tuo passato. Ho sciocato voglia. Attenzione, quello è un rimbalzello. Esce fuori dal pisello. Buono! Buono, almeno. Ragazzi, ci provo. Sfioro. BOM! Un disastro, dai, un disastro. No, non è più titanato, in realtà. Però... Non più di tanto, dai. 12.000 punti. Il mio intento è di fare 64.000 a... a 3.000. Quello è il mio intento. No. Ok. Perfetto. Poteva rimanerci un po' di... Ma no, ho fatto un cazzo con quel potere. Te l'ho tolto, ma... Cioè, abbiamo tutti e due lo stesso personaggio. Sì. Buono. Buono! Per favore, per favore, per favore! Per favore! Sì! Porca raia! Tra l'altro, queste sono le partite più equilibrate dove siamo. 5.064. Stava succedendo... No! No! Sì! L'ha recuperata, l'ha recuperata, l'ha recuperata. Cosa? Eh, la partita l'ha recuperata. Ma si stai a 63.000. Eh no, però ti volevo fare cappotto, capito? Guarda via! Guarda via! No! Madonna, 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 madonna! Madonna! Ok, c'è in ballo una festa estrema. È un disastro, questa partita. 122.020... Quando ho fatto questi punti? Ma li ho fatti? Infatti... Un fottio nei fatti. Allora, qui... Devo rischiare. Beh... Ma non te la puoi giocare così al cazzo di cane? È più buono! Ecco, adesso il mio problema, raga, è che mi farà molto male, però... Posso provare a fare una cosa di questo genere. Mi sono stegnato un po' tanto questi... Sì, è un po'... Un po' blasfemuccio questo momento. Nato! Buono, 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 buono! Buono, buono! Tutto buono, buono! Ci doveva andare! Mangio buono! Bene! È un po' razzista questa cosa che stai facendo. Porca puttana! Vabbè, però hai fatto un botto! 6.000 punti di festa estrema! Vaffanculo! Vabbè, dai! 103.083, dai! Pensavo peggio, dai! Pensavo peggio, dai! 20.000 punti di differenza si recuperano molto easy! Ma questo è l'ultimo? Sì! Sì? Sì, è l'ultimo! Ok, mi devo mantenere, mi devo mantenere, mi devo mantenere! Oh, che sfondo che fai là! Mamma mia, mamma mia! Ma che culo di merda è questo! Preciso morire lui! Cristo il culo che c'hai, porca! Che c'è? Due, dai! Quella cosa la non era nemmeno... Nell'anticamera del Gesù! Niente! Gesù che fa? Niente! Ok... Che cazzo ha il centrale? Vabbè, no! Un colpo, signore! Inutile! Bene! Ok! E' inutile, ma almeno... Cioè qua la malla va in una direzione un po' incoerente, siamo finiti proprio! Tipo questa! Ma, 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 ma... Sì! Sto più contento così! Sto più contento! Sto più contento! Non al centro! Non al centro! Abbiamo fatto bonus, cioè... 25.000... Ho recuperato esattamente il tuo punteggio! Beh, questo me ne ho 25! Non l'ha preso! Cristo! Non me l'aspettavo, sai! Cristo! Non me l'aspettavo! Adesso devo gio... Ultra safe! Ultra safe! Ultra safe! Dobbiamo giocare safe! No! Per vincere questa partita singola, amichevole, in the world, in the morning life! Oh! E' rotto cazzo! E' rotto cazzo! E' rotto cazzo! Non ci volevo che c'embrasse! 47.000! Ok! 47.000! Viozz! Banana! Bomba! Il culo! Era tutto calcolato! Tutto proprio! I imbalzi erano proprio precisi per... Bello! Mannaggia la madosca! Ho, ho! Per un attimo... Ho avuto un mancamere! Perché l'intento c'era! Non voglio prenderti quel... Pegger! Di cazzo! Voglio continuare playing! Allora, qui abbiamo... Una possibilità su almeno 300! E' compressa, eh! Però se la dovesse fare, madonna! Nonna! Allora, ho vinto, no? Però... Io non ho voluto tirare, no? Però... Attenzione! Sempre 5.000 perché... Sono diventato... E' giusto così! E' giusto così! E' giusto così! E' giusto così! Esatto così! Vabbè... Facciamo un mashup, primo po'. Sì, facciamo un best of, e facciamo vedere il disastro. Oh! Oh! Si, 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 si! Ma guarda che culo di minera! Si! 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 Oh! Oh! Ma è uscito dall'inquadratura Si, hai perso il cappello Si è buggato Comunque noi ci vediamo al prossimo Amichevole Che a questo punto sarà l'ultimo di questa prima sessione di ritorno del torneo Prima di andare finalmente alle qualificazioni Ci sono riuscito Esatto Alla prossima